Giovane donna italiana tende un agguato ai giardini zumalini ad una sua coetanea. Nella fuga della lite le strappa una ciocca di capelli e parte del cuoio capelluto. Sono ancora da definire i contorni della violenta aggressione accaduta nel pomeriggio di venerdì, in pieno giorno, nel parco cittadino. Da una prima ricostruzione pare che all'origine dell'acceso di verbio vi fosse un problema di sostanze stupefacenti. Secondo quanto ricostruito, la vittima dell'aggressione, già nota alle forze dell'ordine, per diversi precedenti penali, anche per questioni legate allo spaccio di droga, sarebbe stata aggredita da una consumatrice abituale. Questa avrebbe atteso un agguato alla pusher, parandosi davanti a lei e cominciando ad aggredirla con violenza, tanto da riuscire a strapparle lo scalpo. La vittima è riuscita a scappare, a chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia di Stato, che hanno cercato di rintracciare la responsabile della rissa, che però si era già allontanata. Nel frattempo la donna aggredita è stata accompagnata in ospedale per refertare le lesioni. Grazie. Grazie.